La caffettiera vacuum in vetro serviva appunto anche per spettacolarizzare la preparazione del caffè che avveniva direttamente sulle tavole non più nascosta nelle cucine. Qui abbiamo un esempio di una caffettiera vacuum, lo stesso principio quello mostrato prima da Enrico, italiana, fine ottocento, dove a proposito di spettacolarizzazione del processo vediamo che situazione di apparato è stato realizzato proprio per preparare il caffè a tavola. Ecco la caffettiera adesso andava montata in questo modo e vedete ripercorre un po' le forme già della vacuum descritta da Enrico, con un sistema molto ingegnoso, questo nella caldaia si metteva l'acqua, qua di sopra la polvere di caffè, il procedimento è lo stesso. Il sistema molto ingegnoso era quello che permetteva, a differenza di quella caffettiera mostrata da Enrico dove era lui al dover togliere fisicamente la fonte di calore, qua quando l'acqua aveva raggiunto la temperatura di ebollizione e passava nel bicchiere di sopra per l'infusione, automaticamente attivava dei sensori, questa macchina si chiama infatti idrofiammi fuga, che spengeva automaticamente il fornelletto, di modo che il processo di infusione e di ridiscesa verso la caldaia per essere spinato direttamente in tazza avveniva tutto automaticamente. Il supporto così un po' pomposo serviva per trasportarla e spostarla in tavola.